Accelerare doveva essere la parola d'ordine che diventa decelerare per riuscire a dare priorità alle persone fragili non deambulanti che il vaccino lo aspettano a casa. Mancano dosi a sufficienza e personale per immunizzare tutti contemporaneamente. Il rischio potrebbe addirittura essere quello di doversi fermare senza scorte a sufficienza, un problema comune all'arresto d'Italia che in Irpinia si traduce nella marcia a doppia velocità. In alcuni centri della provincia già vengono convocati i sessantenni, in altri prosegue la lunga attesa. De Luca annuncia che tutti gli anziani ottantenni prenotati hanno ricevuto la prima dose e a breve si concluderanno le operazioni per i fragili. Da lunedì saranno attivi 12 team mobili, oltre ai 6 già operativi per la vaccinazione dei soggetti in assistenza domiciliare. Il personale opererà dalle 8 alle 20. Inoltre per gli over 80 disabili e fragili non deambulanti ma che possono essere trasportati è stato attivato in collaborazione con l'esercito il drive-in a Sturno. Non tutti i centri saranno attivi oggi in provincia di Avellino per le prime dosi, solo per i richiami operativi. soltanto 12 centri su 22. E ieri al campo Coni di Avellino si è ripetuta la vergogna di anziani in attesa per ore al freddo. Assembramenti dovuti a ritardi, pare che il sistema informatico non funzionasse, ma le operazioni richiedono molto più tempo del necessario quando c'è personale inesperto. Raramente si registrano file per le seconde dosi. Al caos si aggiunga che i medici di base non vengono coinvolti a sufficienza nonostante gli accordi siglati a livello nazionale e regionale. E quei medici magari vedono tornare indietro i propri pazienti che altri dottori non hanno voluto vaccinare per non assumersi il rischio. Rientra singhiozzo anche il caso dei volontari non ancora immunizzati. Non mancano le luci, le ombre continuano ad essere di più perché anziché accelerare si decelera. Grazie a tutti.